Momento durissimo per l'Ori del Santo? La showgirl ha perso da poco il figlio 19 è Nellorin Il ragazzo, malato di Anedonia, si è tolto la vita. Non è il primo figlio che la del Santo perde. Nel 1991 aveva perso Conor, il bimbo di quattro anni che aveva avuto da Eric Clapton Il piccolo cadde dalla finestra e non ci fu più nulla da fare. Dopo quel dolore atroce, ora sta vivendo un altro momento tragico Ma il suo modo di gestire il dolore entrando nella casa del grande fratello Vitt ha suscitato numerose polemiche Anche perché pare che non sia andata al funerale del ragazzo proprio per evitare l'esclusione dal reality Inconcepibile. Figlio più piccolo di Esis Flori del Santo suicida Ada. Lo dice la di lei sorella L'Ori non va a funerali per paura di esclusione di Esis GFVIP? L'Ori ora! Avevo deciso di non partecipare, invece al GF ci vado come terapia Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo ha scritto su Twitter qualche giorno fa il giornalista Antonello Piroso, ex direttore del Tgla7 Anche l'ex marito Silvio Sardi ha commentato con una lunga lettera inviata alla redazione di Pomeriggio 5. Non ho nessuna intenzione di giudicare l'Ori, se parteciperai o meno al GFVIP 3 Sono senza parole per questa ennesima tragedia che l'ha colpita. Delle ultime ore, poi, il commento della psicologa Irene Bozzi, che ha fatto sapere al settimanale nuovo che ora potrebbe commettere una P.A.Z.I.A. La psicologa ha dichiarato che entrare nella casa del grande fratello Vip 3 potrebbe esserle d'aiuto, ma che la del santo, ha comunque bisogno di andare in terapia Ora ci sono degli aggiornamenti. Pare che l'Ori entrerà nella casa il prossimo lunedì, primo ottobre Ci sono diversi indizi che ci raccontano, e ci dicono, che l'Ori del santo probabilmente entrerà nella casa del grande fratello Vip, ha detto Federica Panicucci in apertura della seconda parte di Matino 5 Al momento sono solo indiscrezioni. Ma ci sono indizi che fanno pensare che il suo ingresso sia vicino La Panicucci, comunque, ha sottolineato che dalla produzione del reality non sono arrivate conferme . Ilari Blasi ha sottolineato a Mattino 5 che la decisione di Lori del santo sull'ingresso al GF Vip 3 dividerà sicuramente l'opinione pubblica . La Blasi, però, ha anche aggiunto che di fronte a un dolore così grande come la perdita di un figlio è necessario sospendere il giudizio . In attesa di vedere cosa accadrà nelle prossime ore, restiamo col fiato sospeso .